È una mostra fondamentale per l'Accademia perché è un filo interpretato qualche anno fa riuscire a portare a Catania un'antologica completa delle opere di Romano con la sua storia e un ragionamento sul ruolo che questo pittore ha avuto in Italia e in questa terra. Un ragionamento che ha coinvolto tutta l'Accademia dal punto di vista dei pittori che hanno collaborato perché il curatore Vittorio Vichari ha lavorato insieme a tanti colleghi e a tanti ragazzi hanno voluto portare qui a Palazzo della Cultura una mostra che sia un attimo, una ripartenza per la città in un momento in cui credo più che mai si abbia bisogno di vedere giovani generazioni che guardano e imparano dei grandi maestri.